Con l'arrivo del nuovo anno, Sony ha confermato i nuovi giochi gratis per gli utenti PS Plus, scaricabili dal 3 gennaio 2023. Intanto, affrettatevi a scaricare i giochi del dicembre 2022, quali Mass Effect Legendary Edition, Biomutant e DKO Divine Knockout, gratis fino al 2 gennaio 2023. E adesso iniziamo con le novità e i giochi gratis in arrivo. Star Wars Jedi Fallen Order è un gioco d'azione ed avventura in terza persona sviluppato da Respawn Entertainment. In questa avventura, per giocatore singolo della forte componente narrativa, assume il ruolo di un padawan Jedi sopravvissuto all'epurazione dell'Ordine 66, subito dopo gli eventi dell'episodio 3 La Meddetta dei Sith. Decido di ricostruire l'Ordine dei Jedi, devi recuperare i frammenti del tuo passato in Frantumi per completare l'addestramento, sviluppare nuove potenti abilità della Forza e padroneggiare l'arte dell'iconica spada laser. Tutto questo senza farti sopraffare dall'Impero e dai suoi medici ideali inquisitori. Fallout 76 di Bethesda Softworks. 25 anni dopo, la caduta delle bombe, insieme agli altri abitanti del Vault, riemergi finalmente nell'America postnucleare nella giornata della rigenerazione nel 2102. Gioca in solitaria o con gli altri per esplorare, affrontare, missioni, costruire e trionfare contro le più grandi minacce della zona contaminata. Esplorerai la vasta zona contaminata devastata dalla guerra nucleare in questa variante multigiocatore a mondo aperto della storia di Fallout. Interagisci con il mondo di Fallout più grande e dinamico mai creato. Axion Verge 2. Un action-adventure indie di esplorazione. Ti ritroverai nei panni di Indra, la miliardaria alle spalle della multinazionale Globe Tree. Si dirige in Antartide per indagare sulla sparizione della figlia. Ben presto si ritrova in una realtà infestata da macchine parassitarie che la aiutano ma che col tempo la confondono. Esplora un mondo alternativo simile alla Terra, pieno delle rovine di un'antica civiltà tecnologica, ha chiara macchine e combatti dei mostri per scoprire la verità. Questi sono i giochi gratis di gennaio 2023 del PS Plus di Sony. Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti e seguiteci nei social. Al prossimo video!